Il testo argomentativo. Informazioni essenziali. Cos'è un testo argomentativo? È un testo in cui si espone un pensiero, un'idea, un'opinione, insomma in poche parole una tesi e poi si portano delle prove per dimostrare che quell'affermazione che stai facendo è corretta, è giusta. Non è mai così semplice affermare qualcosa perché ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo con noi. Ma noi che cosa possiamo fare? Possiamo prevenire l'obiezione di chi non la pensa nello stesso modo. Come si fa? Si prende in considerazione la sua obiezione e la si confuta. Facciamo un esempio. Ammettiamo che tu voglia scrivere un testo per dimostrare questa tua idea che un bravo giocatore di calcio è tale se indossa delle scarpe di una determinata marca. Ci sarà sempre qualcuno che obietterà dicendo che non si trova d'accordo. Potrebbe dirti no, non credo che sia così, credo che se uno è un grande campione potrebbe giocare tranquillamente anche a piedi nudi e fare lo stesso un gol. Nel testo argomentativo non aspettare che l'obiezione arrivi da qualche lettore. Rifletti e inseriscila direttamente tu nel tuo testo. In questo modo enunci la tua tesi, porti degli argomenti a favore di quello che stai dicendo e poi aggiungi una frase che può introdurre in questo modo l'obiezione. Ci sarà qualcuno che obietterà che un grande campione può giocare anche senza scarpe eccetera Cosa devi fare adesso? Adesso devi dimostrare però che quell'obiezione non è corretta, cioè devi confutarla. Allora potrai dire ad esempio che un grande campione che si trovasse a giocare a piedi nudi su un campo da calcio dopo un po' di tempo avrebbe talmente male ai piedi che non riuscirebbe sicuramente a segnare un gol. Quindi che cosa hai fatto? Hai preso in considerazione l'obiezione di uno che la pensa diversamente da te e hai dimostrato che il suo pensiero non è corretto e che hai ragione tu. Quando scrivi un'argomentazione devi rispettare una struttura le cui parti fondamentali sono la tesi cioè l'idea di cui vuoi parlare e di cui vuoi convincere chi ti ascolta o chi ti legge gli argomenti che porterai per sostenere per dimostrare la tua tesi e poi una conclusione cioè la fine del discorso in cui ribadisci la giustezza della tua idea. Questa però è proprio una struttura minima essenziale per fare un testo fatto bene possiamo arricchirlo. Ad esempio possiamo mettere all'inizio un'introduzione. Rimaniamo sempre sull'esempio del calciatore che deve avere delle buone scarpe da calcio. Invece di cominciare subito dicendo che il calciatore deve avere le scarpe da calcio adatte potresti ad esempio dire che in Italia il gioco del calcio è sicuramente lo sport più diffuso e più praticato da tutti fin da piccoli fin da ragazzini. Questa introduzione ti serve a creare un contesto ad entrare in argomento poi esporrai la tua tesi porterai degli argomenti a questo punto infilerai la famosa obiezione e poi la confuterai. Solo adesso tirerai le fila del discorso e potrai concludere dicendo che come avevi esposto all'inizio hai ragione tu. Per poter essere efficace e convincente la tua tesi deve essere chiara ed immediatamente comprensibile da chiunque la legga. Per ottenere questo risultato devi usare un linguaggio semplice ma allo stesso modo molto preciso in modo che chi legga la tua argomentazione non abbia dei dubbi non si dica ma non ho capito che cosa sta dicendo. Al contrario segua il tuo discorso dall'inizio alla fine capendo perfettamente tutto quello che tu gli stai raccontando. Un'altra arma efficace perché tu possa convincere il tuo lettore di quello che stai dicendo sono gli argomenti che dovrai portare. Gli argomenti dovranno essere il più oggettivi possibili. Cos'è un argomento oggettivo? È un argomento che si può misurare, che si può dimostrare. Ad esempio possono essere dei dati tratti da uno studio scientifico oppure possono essere delle percentuali che hai preso da un'indagine statistica, da un reportage giornalistico. Insomma devono essere dei fatti misurabili e dimostrabili. Non sempre puoi portare dei numeri e delle percentuali, puoi portare però dei pareri autorevoli, cioè affermazioni, pensieri di persone autorevoli, cioè che tutti riconoscono come esperti, come capaci. Insomma è un po' come dire non lo sto dicendo solo io questo, ma lo sta dicendo anche questo tizio che è riconosciuto da tutti come un esperto in materia. In pratica, per dirla molto semplicemente. Non si può sostenere un argomento dicendo la mia tesi è giusta perché boh la pensa così anche l'amico di mio cugino. Bisogna costruire l'argomentazione su delle basi solide in modo da poter concludere alla fine che hai ragione tu.